Musica I believe I can fly No basta Ok Questo ragazzi è il parco dei desideri Ovvero un mondo alternativo Adesso credo ce lo spieghino se non ricordo male E' un mondo alternativo dove Ci sono praticamente i minigiochi Di Poké Park 2 Ci sono solo qua i minigiochi E non in tutto il gioco E sono pochi a confronto di quell'altro Questa infatti è una cosa che forse Non mi piace di Poké Park 2 Ovvero la mancanza di minigiochi Anche perchè erano belli gli altri dai Comunque Eccoci qua Forse la luminosità è un po' tanta Nel parco qua Wow Ogni cosa è fatta di dolci qui E il pavimento galleggia nell'aria Chi se lo immaginava Che esistesse un posto come questo Oltre la spiaggia Oh Bottita Devo fare la voce Benvenuti al parco dei desideri Ciao Wow Il parco dei desideri E' un posto davvero misterioso Non mi ricordo già più Ciccola di Piliplup Oh Hai notato eh Ma non è soltanto misterioso E' anche molto divertente Vi invito a giocare tutto il tempo che volete Anche per sempre Prego da questa parte Non posso fare la voce perché C'è un po' di vocina Comunque io so già la strada Vassa andare di qua Semplicissimo Stupendo Forse il posto più bello del Poké Park In assoluto Sono felice che ti piaccia Ma non fa parte del Poké Park Il parco dei desideri È un mondo a par Non l'ho letto Niente male vero Siete invitati a giocare qui per sempre Non vedo l'ora di mostrare Li patrati a questo posto incredibile Non mi ricordo più veloci ragazzi E' assurdo Più sete meglio eh Senti ma dove sono le torte? Le torte attraverso il pregioco di Copaglius Si trova in cima alla salita Subito dopo il ponte Sì torte sì Pikachu dai andiamo anche noi Da questa parte Ovviamente so già dov'è E comunque sì È assurdo ragazzi Non mi ricordo come ho fatto le voci Dei Pokémon Tre minuti fa neanche Due Boh Dai giochiamo ancora una volta Ancora L'abbiamo già fatto venti volte Ma che venti volte Non è vero Con la prossima siamo a ventitré Ok Non è quello il punto Vuoi davvero giocare ancora? Certo Troppo divertente E poi le torte che ti danno Sono buonissime Ok d'accordo Sì sì torte Ok Questo super gioco è davvero successo Dai andiamo anche noi Benissimo Allora andate a parlare con Copaglius Io vado ad accogliere gli altri visitatori Che poi non so se Copaglius O Copaglius Vabbè Parliamo con sto Guardate che faccia ragazzi Oddio Vi do il benvenuto Gentili ospiti Io sono Copaglius Il guardiano di questo super gioco Vi offro la possibilità di sbizzarrirvi Cerca... Eh sì Scusate Creando torte infinitamente deliziose Naturalmente alla fine del gioco Le torte create saranno vostre Non perdiamo altro tempo prezioso Accomodatevi La fabbrica dei dolci vi attende Boh No ok Forse non è che si malvace Eh fabbrica dei dolci Primo minigioco Mira gli ingredienti delle torte E impasta tantissimi Buonissimi E levissimi Dolci Punta il telecomando Wii Verso lo schermo E muovilo per controllare il cursore Punta il cursore sugli ingredienti Per fare le torte per mia per colpirli Ovviamente abbiamo solo Pikachu Iniziamo È molto facile come minigioco Ovvero dovete solo selezionare Dei semi E I semi Ci sono semi da 100 Semi da 300 E semi da 1000 Credo Ok dov'è Ok Eh I semi da 100 e da 300 Credo No aspettate Non mi ricordo più 100 Ok Quelli verdi E quelli rossi Che valgono 300 O 500 Non mi ricordo Ce li hanno i Patrat Mentre quelli da 1000 Ovvero quelli d'oro Oddio Quelli d'oro Ce li hanno i Watchog E ce ne sono un paio che ne ha pal Eccone uno 1000 E 300 Va bene ok Avete tutto giusto Allora E niente Dovete cliccare sui ingredienti Sto facendo una strage Non so cosa sto facendo E E niente Dovete prendere Sti semi Non so cosa Cavolo Sembrano Delle racchidi Per fare le porte Un tempo strano Vabbè Il mio record è 17.000 Credo Oddio Sto mancando tutti Lagga Aiuto Sì No ok Questo non era Ragazzi Un scarcino Attenzione Tra un po' c'è una scarica rossa Ecco Volendo Sì 16.500 Da notare Pikachu col cannone Fantastico Comunque Il mio record Era 17.000 Cioè Ci sono dei metodi Per fare più record Ovvero Prendere più semi alla volta Si può Magari cliccando La punta Di quello in basso E prendendo anche Il corpo Di quello sopra Che bello Anch'io ho fatto una torta E ora Pancia mia Fatica panna Aspetta Non mangiarla Tutti i pokemon Che hanno assaggiato Quelle torte Si comportano In modo strano Stavo per mandarne giù Anch'io Ma quando ho visto Com'era Ridotto Pampur Dopo averla Mangiato Esitato Sì Sì Torte Sì Sì Non fate Tante difficili Mangiate anche Voi questa torta Sì Rimanete per sempre Nel parco Di desideri Sì Vieni Torta Anche in faccia In testa Sì Sì Torte Sì Dove sei? Non ti vedo Pampur Dove siete? Dove siete? Sì Oshhoot Oshhoot È dietro di te ancora Non so se Non l'hai sconfitto Pikachu ovviamente Nuotano il verde E tu chi sei? Oshhoot Io sono Oshhoot Sono arrivato fin qui Seguendo le tracce Di Pokémon Scomparsi Chi sei tu Piuttosto E che cosa stai tramandando Perché stai trascinando Tutti qui? Che è un terzo grado Il compito di tu sovrano È quello di rendere Tutti felici Guardate i volti Di Pokémon Come sprizzano Gioia Sì Ci volte sì E secondo te Starebbero sprizzando Gioia? Se fanno quella faccia È solo perché Hanno mangiato Le tue strane torte Bisogna divertire Subito Samuroth Io penso Fermare Che farle lose Voi pensate Di Yamask Non riuscirete A uscire Dal parco di desideri Avanti Yamask 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 Cacchina So Pikachu Usa CosaCaio Per metterli fuori Il combattimento Sì Bla 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 Scusa il telecomando Ui Per CosaCaio Dobbiamo sconfiggere Tutti gli Yamask Per vincere Questa specie Di minigioco Non è un minigioco Serio Perché non Non è Forse non è come Ve lo aspettate voi Ovvero Da punti Così E' un semplice minigioco Dove dovete fare Queste cose Per vincerlo Ovvero In questo caso Sconfiggerli di Yamask Cosa Avete sconfitto E mica Yamask A quanto pare Fallito Kofar Nero Kofar I gusti Kofar 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 I pokémon Del poképark Non devono Assolutamente Sfuggirci Ma chi è Oddio Chi sono queste mani Ok Comunque vi volevo dire Vi chiedo solo una cosa Ovvero di Chi avesse il gioco Chi l'avesse già giocato O chi l'avesse già visto Cacchio ne so E vi chiedo solo di non spoilerare Perché Io so già come va a finire So già chi è questo O questa O Boh E so già come va a finire So dove si trovano tutti i pokémon So tutto di questo gioco Quindi vi chiedo solo di non spoilerare Perché magari potete rovinare la sorpresa agli altri Ecco Solo questo Grazie Comunque Comunque Oddio le mani ci hanno rinchiuso Vai Pikachu Vai Pikachu Piplup No Piplup Ma scusa Non poteva passare Ci passava anche lui E vabbè vai Un gesto eroico Ce lo ricorderemo Ma Pikachu non l'ha presa bene E vabbè Si è richiuso il poster Uffa Eravamo andati a cercare i pokémon scomparsi E invece abbiamo perso anche Piplup E poi questa porta Come si farà ad aprirla Dobbiamo salvare Piplup E gli altri Oh Pikachu A pensarti bene Ho visto che è stato Samurott Il capo area A chiedermi di indagare sulla scomparsa di pokémon Potremmo chiedere a lui Si saprà sicuramente consigliarci Su come procedere Vado subito a riferirgli Cosa è successo Vieni con me Ah vengo per forza Vengo per forza Però Ecco già Adesso che vedo il coso E dato che non Ho problemi col computer Non posso registrare molto Io direi di fermarci qua Tanto Credo che verrà manca Due belle parti Ovvero Cioè due parti Due Belle non so Stavo a giudicarlo E Cosa devo dire Mi inizio anche A laggare il computer Fuck Quindi Niente Spero che questa guida vi piaccia Come vi è piaciuta Poké Park 1 E Ci vediamo alle prossime parti Dove ovviamente Parleremo con Samurott Il capo area E Andremo avanti Magari faremo anche qualche amicizia Qua in giro Perché ho visto che ci sono Perchi Pokémon Tipo Cactua Tu Che non sei Cactua Maracatus Vabbè Facqua E Vabbè Niente ragazzi Ci vediamo alla prossima parte Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti